Benvenuti amici e amiche di YouTube, eccoci di nuovo qui, benvenuti e bentornati per i nuovi iscritti e per chi è già iscritto al mio canale, Sara D'Agostini, YouTube, vi ringrazio anche appunto per i nuovi iscritti ma anche per chi continua a vedere i miei video settimanali con molto affetto. A proposito dell'affetto mi raccomando contribuite anche voi alla diffusione di questi messaggi che io mi impegno a condividere settimanalmente mettendo i like e condividendo il video. È molto importante per far sì che poi i video vengano visti e che le persone possano con consapevolezza entrare in quello che è proprio un altro sentire, potremmo chiamarlo anche un'altra dimensione perché effettivamente è un po' così. Oggi ho per voi diversi contributi da condividere con voi e per voi, utilizzeremo sempre il nostro libro Limitazione di Cristo sul quale ho scelto un altro passo per voi da commentare, come sapete sia a livello di risveglio della coscienza che di cristianesimo esoterico. Mi presento, io sono una dottoressa Sara D'Agostini, sono una biologa e mi occupo però poi nel corso degli anni ho approfondito la tematica di risveglio della coscienza e di cristianesimo esoterico. E quindi ho una scuola che ho fondato qualche anno fa che si chiama la scuola della nuova era attraverso i quali nell'arco di tre corsi, che io definisco tre anni, svolgo proprio i corsi di risveglio della coscienza utilizzando anche una chiave di cristianesimo esoterico che è fondamentale. Chi mi segue sa quanto sia importante avere una chiave di lettura del cristianesimo che non rimanga più solo superficiale, quindi a livello esoterico, ma che si addentri nei meandri del significato profondo, sia a livello simbolico, ma sia a livello poi pratico del cristianesimo. E quindi quello che è chiamato cristianesimo esoterico per l'appunto. Vi ricordo che, trovate tutto nell'info box sotto al video, ma vi ricordo che a novembre, fine novembre del 2022 è uscito il mio ultimo libro, Quella è spiegabile paura di esistere, lo trovate in tutte le librerie, su prenotazione o anche in tutti gli store online, da Amazon a tutti gli altri store online magari meno conosciuti, ma comunque molto efficaci, anche devo dire sul Giardino dei Libri, che è uno degli store che sinceramente preferisco anche come cliente, come utilizzatrice. E questo perché? Perché questo mio ultimo libro, uscito a novembre, di cui ho fatto anche una presentazione alla Biblioteca di Roma, trovate l'intero video della presentazione, l'intero evento, sempre nel mio canale di YouTube, dove approfondisco le tematiche del libro, quindi chi volesse capire prima di acquistarlo di cosa tratta il libro, sicuramente con quel video dell'evento del 31 gennaio, quindi di pochi giorni fa, si fa un'idea. Anche se mi seguite con i vari video sul mio canale avete già un'idea delle tematiche di cui mi occupo e soprattutto di ciò che questo libro può darvi in più. All'interno trovate sia parte teorica che esercizi pratici applicativi, e quindi il mio invito è quello, dal momento in cui siete interessati ai video che io faccio, di approfondirlo e di iniziare con coraggio a prendere in mano la vostra stessa esistenza, facendovi anche aiutare dal mio libro, da questo mio ultimo libro. Poi, per chi non lo sapesse, comunque trovate tutti i link sotto a questo video, ho pubblicato il mio primo libro di risveglio del 2019, che è intitolato Sei il mago della tua vita. E questo però, a distanza di quattro anni, ho scritto questo nuovo libro, che è un libro molto completo, già dal titolo, quella è spiegabile, paura di esistere, potete immaginare di cosa all'interno si possa parlare, ma soprattutto ci tengo a sottolineare, perché è importante al fino del risveglio della coscienza, che c'è sì la parte teorica, ma anche la parte applicativa, pratica, cioè mettere in pratica, appunto, praticamente, scusate il gioco di parole, nella vita quotidiana di tutti i giorni, quella che è il risveglio della coscienza, che è di fatto un'autosservazione, e la capacità di esserci costantemente, e sicuramente su ogni emozione inferiore. Allora, andiamo, poi comunque trovate tutti i dettagli, come sempre, nella infobox sotto al video. Allora, andiamo subito nel core di oggi. Oggi ho scelto per voi un passo dell'Imitazione di Cristo, faccio vedere di nuovo il libro da cui io traggo tutti questi spunti, che è l'Imitazione di Cristo in questa edizione qui, che è un libro spirituale, ve lo ricordo, non sacro per i nuovi iscritti, ricordo che comunque è un testo, appunto, L'Imitazione di Cristo spirituale e non sacro, che si colloca in ambiente monastico attorno ai secoli XIII e XV, quindi 1200-1400. Rivela una profonda conoscenza del cuore umano e soprattutto un'intensa esperienza spirituale. Effettivamente, appunto, vi ho accennato, è un testo spirituale e non sacro, ma è veramente un testo fondamentale per approfondire il rapporto tra anima e personalità, quello che nel risveglio della coscienza, cioè nell'esoterismo, viene definita anima e personalità, in due entità distinte, ma che in realtà poi dovranno essere una e una cosa sola. E questo è veramente un piccolo gioiello. Ho deciso di condividerlo settimanalmente con voi e quindi di studiarlo e commentarlo e riflettere assieme a voi su questi passaggi per darvi una chiave un pochino diversa, che è quella che riguarda, appunto, il risveglio della coscienza e il cristianesimo esoterico, in cui mi sono, usiamo un termine che va di moda oggi, specializzata negli ultimi anni, di cui io mi occupo. Il mio mistero è proprio quello di diffondere l'insegnamento del risveglio della coscienza e il cristianesimo in chiave esoterica. Per fare capire anche i nuovi scritti, l'entità e l'importanza di questo testo, l'Imitazione di Cristo, vi leggo un passo del libro primo. Cogli dappertutto occasioni per diventare migliore, cosicché se taccate di vedere o di ascoltare buoni esempi, ti senta acceso ad imitarli. Perché è molto importante l'Imitazione di Cristo? Già dal titolo stesso di questo testo, che è stato scritto, a quanto pare, da più autori che erano monaci, quindi non da un singolo ed unico autore. E questo è anche esso molto bello, perché ci permette di riflettere su punti di vista differenti, che non vengano da un'unica fonte, ma appunto da più fonti. E questo è veramente molto, molto importante. L'Imitazione di Cristo, già il titolo stesso ci dice, che l'invito e lo sprono è quello di imitare la vita, l'insegnamento del Maestro Gesù Cristo. Ricordo sempre, soprattutto per i nuovi, che Gesù Cristo è il corpo di Gesù e l'anima cristica. Per questo, quando si parla di Cristo, si parla dell'anima nel corpo di Gesù. Quindi il Maestro Gesù Cristo, anima e corpo, è della piena rappresentazione della differenza, e anche questo ci sprona nell'imitazione di Cristo, tra anima e corpo. Quindi Gesù corpo, ovvero personalità o persona, quindi quella che noi definiamo personalità o persona, ovvero piano fisico, piano emotivo e piano mentale. E poi c'è l'anima cristica, che è l'anima vera e propria, che poi è l'essenza. Quindi è come se io dicessi che ho un'anima e sono Sara. Quindi sono Sara ed ho un apparato psicofisico. Quindi l'anima è rappresentata da Sara, per capirci, e l'apparato psicofisico è tutto ciò che l'anima utilizza per evolvere vita dopo vita. E quindi, già da qua, entriamo bene in questa, in questo contesto dell'imitazione di Cristo, quando si dice noi siamo fatti a immagine, somiglianza di Cristo, è proprio così. Cioè, è vero, un'anima è un corpo, o anche, possiamo dire, un'anima è una personalità. Ricordatevi che la personalità è piano fisico, piano emotivo, e piano mentale, quella che è chiamata macchina biologica, apparato psicofisico. L'anima però è lei che deve essere la padrona di casa. Lo spiegavo proprio ieri al corso di primo anno, che finirò a fine febbraio, che è l'anima che deve diventare la padrona di casa. Ed è quello che noi facciamo col risveglio della coscienza, cioè rendere sempre più cosciente la parte incosciente. Quindi rendere sempre più immortale la parte mortale. È un passaggio fondamentale questo. La parte mortale è quella che crede a paura di morire in ogni istante, non solo per eventuali malattie, proprio la paura della morte intrinseca, che è quella che fa di fondo poi soffrire l'uomo. Ed è la parte, appunto, mortale, ovvero cosciente. Poi c'è la parte immortale, che invece è quella incosciente, che è quella su cui agisce il risveglio della coscienza. Perché più ci si risveglia, ovvero più si è con tutta la propria essenza presenti sull'emozione inferiore prima e poi su tutta la vita poi, e più la parte incosciente, ovvero la parte immortale, si accresce. Ok? E quindi si accresce per fiorire nella coscienza, quindi nella visione. Allora, il passo che ho scelto oggi, su cui riflettere, proviene dal capitolo trentanovesimo del libro L'Imitazione di Cristo, e si intitola Agire senza affanno. Vi ricordo che questa parte che sto trattando negli ultimi video del testo L'Imitazione di Cristo, fa parte del libro, vi ricordate, ve l'ho spiegato come è articolato questo testo spirituale L'Imitazione di Cristo, per chi non avesse visto, se tornate al primo video dell'Imitazione di Cristo, spiego un po' la struttura di tutto il libro, comunque è articolato i libri, e noi adesso stiamo studiando già da, questo è già il terzo video, che facciamo sul libro terzo, che si intitola La consolazione interiore, quindi nel libro terzo trovate tutti argomenti spirituali che riguardano la consolazione interiore, e ogni libro riguarda una tematica, ogni libro del libro L'Imitazione di Cristo, perché L'Imitazione di Cristo ha quattro grossi libri, il libro primo, esortazioni utili per la vita dello spirito, il libro secondo, esortazioni che introducono la vita interiore, eppure su questo ho fatto dei video, andateveli a vedere, la consolazione interiore, su cui ho fatto già due video, e oggi un terzo, e poi il libro quarto, che è il sagramento dell'altare, quello che sto facendo attraverso questi video, attraverso il mio canale, andare a approfondire in chiave esoterica questi passaggi del libro L'Imitazione di Cristo, cercando di utilizzare un po' tutti questi libri, quindi ho fatto dei video sul libro primo, ho fatto dei video sul libro secondo, adesso sto facendo dei video sul libro terzo, e poi vedrete che commenteremo anche il libro quarto, insomma, gli argomenti di cui parlare ce ne sono molti, ma studiare insieme questo libro, rifletterci, approfondirlo, penso che sia veramente un ottimo strumento, allora, vado a leggervi Agire senza affanno, in questo passaggio c'è un dialogo tra il Signore e il discepolo, parole del Signore, figlio, affida sempre a me la cura dei tuoi interessi, vi provvederò io a fin di bene al momento giusto, attendi le mie disposizioni e ne sentirai quindi profitto, in questo primo passaggio viene approfondito in maniera eccezionale la capacità di affidarsi, sapete che affidarsi deriva dalla radice fede, fede vuol dire fiducia, avere fede, avere fiducia che tutto ciò che accade non solo è creato e attratto dall'anima che io sono e quindi è quello che è necessario per la mia evoluzione, ma che ho tutte le possibilità di poterlo trasformare perché è la mia stessa anima che attrae quella situazione per poter evolvere, quella situazione in quel determinato contesto, cerchiamo di non essere miopi ma di avere una visione di ciò che accade nella vita più ampia perché con la miopia noi vediamo solo ciò che accade e viviamo solo di quelle emozioni che poi in genere è un'emozione inferiore, non vedendo che attorno a ciò che accade c'è un disegno più ampio un disegno molto più grande che scopriremo prima o poi lo scopriremo ma non è tanto importante scoprirlo però è importante affidarsi a questo sentire a questa chiave della vita che è differente dalla chiave della vita che in genere la società vuole trasmettere che è quello di le cose accadono casualmente assolutamente mai cosa più falsa le cose non accadono mai casualmente e sono da noi attratte proprio per permetterci di evolvere e per permetterci di entrare nella gioia senza limiti questo ve lo ricorderò sempre in ogni video chi lo ha già sentito lo risentirà tanto male non fa quindi dice attendi le mie disposizioni e mi sentirai quindi profitto allora sulla questione del signore chi è il signore il signore Gesù Cristo un epiteto un epiteto che viene dato a questa unione quindi non più duale tra personalità e anima come vi spiegavo all'inizio del video ciò che vi voglio trasmettere però è un gradino in più di se riesco di consapevolezza perché c'è questo dialogo continuo con il divino se o Dio o il se supremo nell'individuo chiamatelo un po' come volete cioè coi piani superiori dell'esistenza perché noi come ho spiegato nel video dedicato ai sette piani superiori dell'esistenza l'esistenza è organizzata in piani e sono sette guarda caso come i sette giorni della settimana i sette doni dello spirito santo e chi più ne ha più ne metta perché ci sono i piani superiori dell'esistenza i piani superiori dell'esistenza nel 99% dei casi umani non viene considerato cioè l'essere umano vive la maggior parte della sua esistenza identificato con i piani inferiori dell'esistenza che ormai sapete essere il fisico l'emotivo e il mentale bene c'è tutta una parte a cui la maggior parte della società non bada come se non esistesse ma esiste quindi prima o poi ci dovrà fare i conti che sono i piani superiori dell'esistenza in particolar modo oggi mi soffermerei sul settimo che è il divino sé o Dio o il sé nell'individuo il divino sé nell'individuo e il piano del divino sé che è appunto il settimo è il piano da cui tutto trae origine e quindi è il piano da cui trae origine lo stesso spirito spirito che poi passatemi in termine poco tecnico ma debbo anche in qualche modo farvelo comprendere spirito che poi scende in anime anime che poi scelgono dei corpi ok quindi iniziamo a entrare anche in quello che è l'organizzazione spirituale dell'esistenza noi sappiamo benissimo come è organizzata un'azienda sappiamo benissimo come è organizzato un supermercato come è organizzata l'economia come è organizzata la sanità noi abbiamo l'organizzazione di tutto sulla terra quindi c'è l'organizzazione sanitaria politica economica poi però non sappiamo qual è l'organizzazione spirituale questo è incredibile conosciamo l'organigramma di un'azienda e non conosciamo l'esistenza non conosciamo l'esistenza spirituale l'organizzazione dell'esistenza spirituale e quindi anche questo è il mio intento il mio scopo con voi farvi conoscere l'aspetto spirituale dell'esistenza quindi tornando a noi dal divino si origina lo spirito che poi scenderà attraverso le anime che sceglieranno i vari corpi perché ricordatevi sempre che sono le anime attraverso il corpo causale che scelgono i corpi corpi è un macchino biologico apparato psicofisico bene quindi la comunicazione con i piani superiori dell'esistenza che avviene sia attraverso la preghiera sia attraverso la presenza quindi la capacità di esserci con la massima attenzione di portare l'attenzione quindi quella sensazione di esserci sulle emozioni inferiori e sui vari aspetti della nostra esistenza ci permettono di entrare in comunicazione con i piani superiori dell'esistenza e questa comunicazione può avvenire in diversi modi può avvenire per quella che è cosiddetta chiamata rivelazione divina può avvenire per l'intuito quindi un intuito che voi avete un lampo che vi si apre immediatamente nella mente attenzione bene alle parole che utilizzo vi si apre nella mente perché l'intuizione appartiene al mentale superiore quindi vi si apre nella mente o proprio una vera e propria rivelazione divina e quindi proprio scende una rivelazione divina quindi voi comprendete finalmente un qualcosa che fino a quel momento non avete mai compreso ricordatevi sempre che tutto è permesso da Dio quindi tutto è permesso dall'intelligenza divina e quindi per questo anche qui tutto questo per spiegarvi che per questo anche qui vi è un dialogo c'è un dialogo tra il discepolo che siamo tutti noi che siamo sulla via del risveglio e il Signore e dice il discepolo appunto oh Signore ben volentieri affido a te la cura di tutto perché il mio accorgimento potrebbe farmi progredire ben poco o se non fossi se io non fossi tanto preso da ciò che ha da venire e mi offressi invece senza esitazioni alla tua volontà vi ricordo che c'è un passo anche del Vangelo dove si dice sia fatta la tua volontà non la mia già iniziare a dirlo significa entrare dentro quella forma pensiero poi so che c'è molta differenza tra il dirlo e il sentirlo ma voi iniziate a dirlo e vedrete che non tarderà il sentirlo perché iniziate proprio a impregnare i corpi di questa forma pensiero di questo messaggio allora qui il discepolo dice se solo io fossi in grado di non preoccuparmi ricordatevi che il preoccuparsi vuol dire occuparsi prima quindi occuparsi prima che l'evento sia avvenuto e già questo è indice di una disarmonia che eventualmente io mi occupo non preoccupo ma mi occupo nel momento del problema dell'emozione inferiore nel momento in cui accade che è quello che insegno anche io attraverso il risveglio della coscienza i corsi di risveglio cioè nel momento a cui a voi emerge l'emozione inferiore è quello il momento in cui su quell'emozione inferiore dovete portare la consapevolezza e quindi la sensazione di esserci la presenza dell'esserci l'essenza di esserci né prima né dopo durante l'emergere dell'emozione inferiore figlio spesso l'uomo risponde il signore con i suoi pensieri progetta con ardore qualche cosa che desidera ma quando l'ha ottenuta comincia a darne un giudizio diverso perché i sentimenti circa uno stesso oggetto non sono durevoli ma spingono da uno ad un altro i sentimenti però non sono durevoli perché io mi continuo a identificare con i piani inferiore dell'esistenza finché io mi identifico con i piani inferiori dell'esistenza è normale che avrò la legge della compensazione quella che spiego al primo anno quindi inevitabilmente avrò una compensazione a breve o a lungo termine che è pari di pari intensità ma opposta all'emozione inferiore che ho provato in quel momento e quindi non è durevole anzi addirittura una compensazione non è dunque impresa da nulla rinunciare a se stesso anche nelle più piccole cose il vero profitto dell'uomo è rinnegare se stesso e l'uomo che rinnega se stesso è libero e sereno in massimo grado mi fermo subito qui perché che vuol dire rinnegare se stesso voglio togliere ogni possibilità di confusione su questo rinnegare se stesso che viene spesso citato nei testi anche sacri anche nella Bibbia quindi non sono limitazioni di Cristo rinnegare se stesso vuol dire disidentificarsi dai piani inferiori dell'esistenza ovvero dall'apparato psicofisico e identificarsi gradualmente ma inesorabilmente con i piani superiori dell'esistenza questo vuol dire rinnegare se stesso quindi non vuol dire bloccarsi non esprimersi rinnegare nel senso non esprimere se stesso perché spesso è questo il messaggio che è passato soprattutto col cristianesimo esoterico io lo so che è questo che è il messaggio che è passato da decenni se non da secoli quindi rinnegare se stesso vuol dire bloccarsi vuol dire non esprimersi quasi come non essere se stesso il contrario il contrario allora dovremmo discutere sul che significa essere se stessi essere se stessi significa essere anima sentirsi anima perché io ho un'anima che utilizza un corpo ma vivo come anima o vivo come corpo questa semmai è la domanda da porsi quindi cosa è essere se stessi essere se stessi vuol dire identificarsi con l'anima sentirsi anima e vivere in funzione della missione dell'anima nel momento in cui invece io rimango identificata con i piani inferiori dell'esistenza ovvero con la macchina biologica con il mio apparato psicofisico inevitabilmente non sono mai me stessa quindi capite che anche qui c'è un altro fraintendimento dovuto a una serie di insegnamenti e di forme pensiero che si sono evolute nei decenni e nei secoli essere se stessi vuol dire essere anima non essere apparato psicofisico e allora qui si risponde alla domanda che quando nei testi sagri si parla di rinnegare se stessi si parla di rinnegare l'identificazione con l'apparato psicofisico per diventare veramente se stessi ma l'antico avversario che è nemico di tutti quelli che amano il bene non desiste dal tentarli per l'antico avversario se ci si riferisce a quelle che complessivamente vengono chiamate le forze oscure dell'esistenza anzi giorno e notte trama grave imboscate per far cadere se riesce nei suoi lacci di inganno qualche incauto e quindi dice Matteo 26 41 qui adesso vi leggo una citazione che proviene dal Vangelo Matteo 26 41 vegliate e pregate dice il Signore per non entrare in tentazione e qui quindi torna quello che ormai vi dico in tutti i video ma che è la base tanto del cristianesimo esoterico quanto del risveglio della coscienza che è vegliate e pregate quindi non l'ho detto io eh lo ha detto il Vangelo è solo che io ve lo spiego in una chiave che sia utilizzabile ad oggi nel 2023 quindi ve la riporto in una dimensione attuale ve lo attualizzo vegliate e pregate quindi pregate come vi ho spiegato nell'ultimo video perché la preghiera aiuta la connessione con i piani superiore dell'esistenza e la discesa dello Spirito Divino e vegliate ovvero portate l'attenzione della presenza ovvero la vostra sensazione di esserci portatela su ogni emozione negativa che emerge nel corso della giornata ogni emozione negativa che voi provate che voi sentite ci dovete portare sopra la vostra capacità di esserci la vostra sensazione di esserci che poi è quella che è chiamata l'attenzione in autoosservazione bene ho terminato di anche di approfondire questo passaggio importantissimo dell'imitazione di Cristo agire senza affanno e per agire senza affanno cari amici amiche di Youtube l'unico modo è abbandonarsi completamente al divino sé ai pieni superiore dell'esistenza ma oggi prima di lasciarvi voglio farevi un ulteriore dono e leggervi il passo oggi è lunedì 13 febbraio voi vedrete il video di martedì ma vi leggo oggi il passo del Vangelo di lunedì 13 febbraio di ieri perché è molto molto importante dal Vangelo secondo Marco in quel tempo vennero i farisei e si misero a discutere con Gesù chiedendogli un segno dal cielo per metterlo alla prova i farisei volevano avere una conferma attraverso l'ennesimo miracolo che Gesù fosse il figlio di Dio che il maestro Gesù Cristo fosse il figlio di Dio ma egli sospirò profondamente e disse perché questa generazione chiede un segno in verità io vi dico a questa generazione non sarà dato alcun segno li lasciò risalì sulla barca e partì per l'altra riva bene vi ho voluto leggere questo perché è importante ricordarvi che non è fondamentale ciò che gli altri pensano di voi ma è fondamentale ciò che voi sentite sul piano animico e potrebbe succedere anzi succederà che ciò che voi sentite sul piano animico con una graduale identificazione con l'anima non coincida con ciò che gli altri si aspettano da voi soprattutto perché l'identificazione con l'anima prevede un cambiamento un mutamento un'evoluzione e quindi sicuramente un'evoluzione anche da parte vostra sarà avvenuta e quindi magari l'altro non in tutti i vostri aspetti della manifestazione vi riconosce bene non dovete dare una prova a nessuno e questo ce lo conferma anche oggi il passo del Vangelo ok quindi sospirò profondamente e disse perché questa generazione chiede un segno quindi è molto importante che voi capiate che non è importante che l'altro confermi ciò che voi siete perché siete voi stessi l'essenza della vostra stessa esistenza perciò non dovete né dimostrare nulla agli altri ma nemmeno credere che sia importante farlo e Gesù Cristo ce ne dà un primo esempio con questo passo del Vangelo ve l'ho voluto leggere per farvi capire quanto il Vangelo sia attuale e quanto voi potete vivere il Vangelo ogni giorno della vostra vita è mio compito darvi una chiave esoterica che è quello che sto cercando anche di fare con questi video ma voi iniziate a leggerlo comunque il Vangelo quotidianamente anche se non capite subito il messaggio esoterico quindi il messaggio profondo iniziate allora vi ringrazio molto per avermi ascoltato vi ringrazio per l'attenzione e come sempre vi lascio con il mio motto non bisogna cercare di guarire il corpo senza curare l'anima ciao tanto bene